Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però siamo stati bravi dopo che abbiamo preso il primo gol a rimanere in partita. Abbiamo sofferto, ma è normale, perché comunque avevamo davanti una squadra prima in classifica, che aveva fatto molte vittorie, quasi tutte, e quindi sapevamo che c'era da soffrire. Siamo stati bravi e alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo raccolto un punto che per la nostra classifica è molto importante. Servono delle prestazioni come quella di oggi, ora andiamo con l'Aspra, che sicuramente sarà un'altra partita difficile come quella di oggi. Poi dopo l'Aspra inizia il nostro vero campionato, perché abbiamo comunque tre scontri diretti, due in casa e uno fuori, e quindi sicuramente il nostro campionato si deciderà in quelle ultime tre partite. Grazie a tutti!